Benvenuti a TG4, cari telespettatrici, cari telespettatori, anche oggi abbiamo l'apertura dedicata all'emergenza migranti, un'emergenza che ci trova ancora e come sempre in prima linea con l'Europa che fa finta di non sentire e con la Francia che, pensate, schiera 150 gendarmi per difendere le sue frontiere, il servizio. Con il Mediterraneo centrale affollato, di barconi carichi di migranti, con le nostre coste prese ogni giorno d'assalto, dalla Francia rispondono con 150 agenti in più schierati sulle Alpi Marittime. Lo ha annunciato la Premier Elizabeth Bourne parlando di una forza di frontiera che opererà dalla prossima settimana proprio per fronteggiare la cresciuta pressione migratoria al confine con l'Italia. Nessuna maggiore accoglienza europea, ma al termine del Consiglio dei Ministri all'Eliseo, aumento della gendarmeria, mentre in mare si continua anche a morire. L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni parla di almeno 55 vittime a largo della Libia, 5 sopravvissuti al naufragio recuperati dalla Guardia Costiera di Tripoli. In 24 ore le autorità tunisine hanno invece affettuato oltre 450 interventi, 24 i morti, e non hanno sosta gli sbarchi a Lampedusa. Nell'hotspot vi sono oltre 3.000 ospiti. I trasferimenti con i traghetti di linea non sono sufficienti. Servono le navi promesse dal governo per evitare i sovraffollamenti continui. 40 persone sono state salvate dalla Guardia Costiera di Crotone. Sarà Napoli ad accogliere le 75 a bordo della Geobarens di Medici Senza Frontiere. Da inizio anno sono 39.000 emigranti giunti in Italia, il quadruplo rispetto allo stesso periodo del 2022. Queste le nazionalità di chi arriva. E subsahariani, in particolare guineani e ivoriani, erano i 17 trafficanti fermati dalla polizia di Catania, 8 quelli ricercati. In cambio di denaro permettevano a centinaia di persone di raggiungere l'Italia per poi valicare i confini proprio con la Francia. Arrestato anche un mediatore culturale.